esisteva nella nel farti condannare a morte socialmente cioè negli anni 90 quanti cazzo di anni avevi negli anni 99 nel 90 io avevo sette anni quando il grande quando il poeta quando il poeta sedeva tra i banchi del liceo scientifico che poi avrei frequentato anche io il poeta non è d'annunzio cerchiamo stiamo siamo intanto online quindi cerchiamo di spiegare non si sta parlando di d'annunzio di dante ma il poeta sarebbe il coraggio se il coraggio massimo pezzali detto max io lo capisco perché avevi sette anni quindi tu sei rimasto musicalmente all'età di sette anni non ti sei allora detto che nella serie ci sono nella serie ci sono alcune licenze poetiche giustamente per per come dire esaltare la storia del del poeta per esempio lui non fa gli esami al liceo scientifico tra me li che poi avrei frequentato anche io li fa copernico il liceo rivale ha frequentato entrambi e ha frequentato entrambi peraltro le riprese del liceo scientifico taramelli non sono effettuate il liceo scientifico taramelli perché evidente perché l'ingresso del taramelli è un po un po stretto quindi non però però la serie è molto molto bella è molto bella allora titolo della serie canestrari così il titolo della serie è hanno ucciso l'uomo ragno chi si è racconta racconta la storia del degli 883 da dalla fine degli anni 80 fino non lo so quando perché mi mancano puntate però immagino insomma inizio degli anni 90 non penso che si spingano più in là in una pavia che riconosco abbastanza anche se ero più piccolo perché comunque è rimasta tale fino 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 agli anni 2000 direi molto molto bello molto emozionante la puntata di questa settimana può anche saltare dai perché se dobbiamo parlare di queste cose è una bella è una bella storia che finisce bene a me è proprio emozionato finisce bene poi vediamo se finisce male però capisci che tu hai sette anni quando tutto questo succedeva quindi non soltanto io avevo sette anni nel 1990 ne avevo nove nella mitica estate del 92 l'estate degli 883 e all'epoca io passavo l'estate tre mesi in quello che si chiamava all'epoca in villeggiatura in abruzzo per motivi per motivi per motivi per motivi diciamo di una terapia che doveva fare mia sorella all'epoca aveva necessità di passare molto tempo esposta all'aria all'acqua di mare ed eravamo nel lontano abruzzo nel lontano abruzzo e nel lontano abruzzo sentire l'accento del poeta di pavia quando eravamo lontani da casa fu proprio una bella estate quella e tu invece la la tua terapia quella del 92 evidentemente non l'hai seguita a nove anni sei diventato canestrari vabbè ma la puntata sarà mica tutta così eh eh appunto io te lo ripeto io oggi sono felice perché mi sono mi sta proprio sto binge watching la la serie ho iniziato stamattina finirò stasera quando poi mia moglie torna bravo a vedere un film vedi vedi però nota nota la finezza guarda la serie di nascosto da martina no 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 l'abbiamo guardato insieme abbiamo guardato insieme no no aspetto aspetto lei per finirla perché adesso mentre noi registri noi stiamo registrando ricordiamolo sempre stiamo registrando oggi di sabato pomeriggio ma parleremo anche di qualcos'altro poi mando la sigla oppure parlare di qualcos'altro quando c'è questo argomento che è assolutamente interessante e fondamentale per il nostro pubblico manda sta sigla finalmente grazie sì ciao 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 Grazie a tutti Ok, siamo tornati Speriamo che qualcosa sia cambiato Dopo la sigla Proviamo a parlare di cose serie Ragazzi, che qui il momento è tragico È vero che c'è l'ottimismo infuso Dagli anni 90 Però il momento è molto serio Anzitutto, Biondo ti ha chiamato Giuseppe Dopo il mio corato appello Della settimana scorsa Parlando di cose serie Giuseppe chi? Il professore Giuseppe Conte, il professore L'avvocato, l'onorevole Il presidente Ma mica andava a chiamare me? A me non ha chiamato Non so se a te ha chiamato Se non ci ha chiamato Vabbè, finita così Io non sono autorizzato A rivelarti le mie telefonate E ovviamente nemmeno il tenore Delle telefonate Che intrattengono Con i miei interlocutori Che vuoi? Se non ha chiamato te A fare i tuoi Io non te lo posso dire Dopo tutto quello che abbiamo passato Biondo fa le cose alle mie spalle Eh, vedi Vabbè, senti Però, vedete che Cioè Siete d'accordo con me Che Grillo è finito? Grillo non se lo fila più nessuno Costa, a me A me Beppe Mi fa un po' pena Te lo posso dirlo Mi fa un po' pena Perché c'ha un sacco di casini Non se lo fila più nessuno Non Sta per essere fondamentalmente Io ho letto un po' di commenti Cacciato dal suo partito Ho letto un po' di commenti Sotto il suo Ultimo post su X O ce ne fosse uno Che Non so Ecco appunto Almeno Non dico la solidarietà O l'essere d'accordo con lui Anche un po' di pena Sai La 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 delicatezza Che si Che si può dedicare A quelli che Sono sul viale del tramonto E forse sono già oltre Il viale del tramonto Niente Ho letto dei commenti Tremendi Sotto il post Allora Posso fare un commento Abbastanza serio Meritati Per carità Meritati No Faccio un commento Però faccio un commento serio Io l'ho visto il video Che ho pubblicato Che poi È stato ripreso In chiave Satirica Da Maurizio Crozza Sono amici peraltro Allora Quel video Secondo me Conoscendolo È Veramente Un Tentativo Disperato Di uno che ha capito Che Ha perso La partita E proprio Vuole Lo dice Chiaramente Vuole portare via Il pallone È proprio Un video Di uno Che vuole portare via Il pallone Non saprei altro Non saprei come altro Descrivere Sintetizzare Quel Quel video È E mi Mi dispiace Proprio Mi pesa umanamente Vederlo Perché È Il Secondo me Lui pensava Con quel video Di riuscire a fare Il guizzo Che non ha più Lui era Riusci Lui riusciva A rispondere A Agli attacchi Alle prese in giro A Agli errori Anche Vi ricordate Quando perse Le elezioni Nel 2014 Le elezioni europee No Che Su internet In giro Il video Del malox Su internet Lo prendevano in giro Perché il motto Di quelle elezioni Era Vinciamo noi E Su internet Perse le elezioni Cominciò a girare L'hashtag Vinciamo poi E lui Seppe incassare bene Quella sconfitta E lui Lui si fece carico E incassò Per tutta la sua comunità La sconfitta Nel video Dell'altro giorno È proprio Il tentativo Disperato Di un Di una Di un Protagonista Degli ultimi Quindici anni Che È proprio Passato Di moda È proprio Passato Di moda E secondo me Lui Secondo me Lui Questa cosa La sta proprio Soffrendo E si vede Che la sta Soffrendo E sta cercando Disperatamente Di uscire Da queste sabbie mobili Senza Conoscete Si rende conto Degli errori Che ha fatto Oppure Vive Nella Insapevolezza Del Perché poi Succede A volte C'è rifiuto C'è rifiuto Di Razionalizzare La sconfitta E Se voi Secondo voi Ha razionalizzato Oppure Quando fa Quei video Un po' penosi Devo dirlo È il canto Disperato Di uno Che però Sa di aver perso Di essere oramai Ai margini Non soltanto Della vita politica Probabilmente Non lo so Se sa di aver perso Non lo so Perché Secondo me La sua percezione È un po' drogata Dal fatto Che Ed è il motivo Per cui Devo essere sincero Non lo so neanche io Come finirà Non Non darei La partita Per chiusa Comunque Secondo me Ci sono buone probabilità Che La partita La vinca Conte Però Non si sa mai Perché Anche io Soffro Della stessa Dello stesso bias Di cui soffre Lui Secondo me Dovuto Al fatto Che nel corso Degli anni Tante volte È stato dato Per Finito Sconfitto Morto Politicamente In grande In grande difficoltà Senza una direzione E abbastanza regolarmente Queste profezie Si sono rivelate Sbagliate Ora Va detto Va detto che Negli ultimi anni Si sono sempre Quasi sempre Rivelate giuste Quindi Però C'è sempre Probabilmente La speranza Il wishful thinking Di Grillo Di Riuscire a farcela Un'ultima volta Magari anche Per il rotto Della cuffia Quindi Non lo so Se lui Abbia realizzato La situazione In cui si trova Lui si trova In una situazione Difficile Sia politicamente Sia personalmente Perché Per le note Vicende Che è inutile Andare a rimangare Però Mi spiace Secondo me Hanno un peso politico Se non altro Per l'immagine Ok Se non altro Per l'immagine E E Proprio A Proprio A questo riguardo Questo video Mi ha ricordato Un pochino Anche se meno Incavolato Il video Che fece Proprio quando Scoppiò quella Odiosa vicenda Relativa A suo figlio Fece un video Molto incavolato Certo Molto incavolato Sbagliatissimo Anche lì Sbarellando Sbarellando Completamente Sbagliatissimo Anche dal punto di vista Della difesa Processuale Perché ovviamente Mise in difficoltà Gli avvocati Per evidenti ragioni Però ecco E' un po' Quella situazione Lui pensa Con il suo carisma Con la sua Trovata Estemporanea Di riuscire A rovesciare Il tavolo Però il tavolo Questa volta Insomma Appoggia Su basi Un pochino Più Solide Dal punto di vista Proprio Legale Della situazione In cui si trova Come ruolo Nel partito Perché a prescindere Da quello che sarà Del Movimento 5 Stelle La sua situazione Dal punto di vista Proprio legale Di rapporto Col Movimento 5 Stelle È molto chiara E ha ragione Conte In questo senso Lui ha firmato Dei contratti Che devono essere Rispettati Conte Ha deciso Ha ritenuto Ha ritenuto Che Da parte di Grillo Quel contratto Non è stato onorato E ha deciso Di non rinnovarglielo Come è legittimo E nelle sue Facoltà di fare E quindi Grillo Non può Veramente Fare nulla Cioè Non Non ha potere In questo senso Non ha Non può Cambiare Il corso Degli eventi Non può decidere Di rimuovere Conte Non può decidere Di auto Firmarsi un contratto Perché non ha potere Di firma Su nulla Nel Movimento 5 Stelle Ha ragione Conte Ha veramente Soltanto Un ruolo Che è Quasi Onorifico Che è Quello di garante E anche Dal punto di vista Proprio del diritto Le repliche Di Conte Negli ultimi giorni Negli ultimi settimane Su quelle che sono state Le contestazioni Di Grillo Sono state Credo Impeccabili Perché Perché è Suo lavoro Ovviamente E quindi Secondo me Lui si sente Un po' All'angolo E pensa Di poter Ribaltare Il tavolo Che Io credo Non riuscirà A ribaltare Però Non si sa mai Va bene Dai Marco Non ha Non ha Non ha Il tocco magico Di un tempo In cui insomma Si alzava Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Invece è molto Invece è molto divertente Che Invece è molto divertente Che insomma In pubblico Perché secondo me In privato Dicono tutt'altro C'è chi ancora Discute Dell'apporto Fondamentale Del partito Di Conte Per vincere Le elezioni Che C'è stato Alessandro De Angelis Che ha fatto Un pezzo In punta di numeri Solitamente Alessandro è un po' Un funambolo Con le parole Per raccontare L'aria Che il cronista Respira A quel giorno Nel palazzo Giusto A Roma Invece questa volta Si è dato Ha preso la calcolatrice Non ha fatto Casini Come qualcun altro E ha raccontato Che nelle ultime Dieci elezioni Su undici I numeri Espressi Dal partito Di Conte Non servono a niente Se non a perdere E infatti hanno perso Dieci volte su undici No Invece Scusatemi C'era una cosa Che vi volevo leggere Perché ci sono Un sacco di notizie Divertenti Questa è Soprattutto per Costantino Perché Canestrari Sentendo gli 883 Non è politicamente Classificabile E Ho saputo Qualche giorno fa Cioè Ho letto Qualche giorno fa Che c'è Un politico Spagnolo Che è stato Importante Molto importante Qui teniamo Alla privacy E quindi Non facciamo nomi Così è Funziona così Costantino Che è stato accusato Di molestie Pesanti Insomma Da un bel po' Di Di donne Che ha Senza ammettere Ancora Ovviamente Le sue Queste sue Insomma Condotte Scrive Una lettera Bellissima Costantino Questa è una cosa Che tu devi sapere Lui scrive Che è giunto Al limite Sto leggendo Della contraddizione Tra essere portavoce Di un partito Di sinistra E il suo stile Di vita Neoliberale No Sì Quindi Quindi Tu che sei Uno studioso Un abile Raccontatore Cioè Aspettate Sì Sì L'hai capito Hai capito Tu sentivi Le Zeppelin In Cagliottotototre Capisci subito Al volo Sì Secondo questo signore Molestare Una donna Significa Tenere Uno stile Di vita Neoliberale Ragazzi È bellissimo È stupefacente No vabbè Questa Questa mi mancava Credo che fosse L'ultima L'accusa Che si potesse fare Neoliberali Neoliberisti Mancava solo No forse Manca ancora Non so Mangiare i bambini No ma neoliberale Significa che questo È un merito Poglione Perché anche in Spagna Dove parlano Una lingua Meravigliosa Quanto quella Che abbiamo noi Si dice Avere uno stile Di vita Libertino Eh A questo Pirla Cioè È venuto Invece di Libertino È neoliberale Perché la deve Buttare in cagnara Capito È bellissimo Cioè sta cosa No dopo Dopo mi giri La lettera Perché la voglio Aggiungo Aggiungo La nota di colore Aggiungo la nota di colore Di questo imbecillo Questo è Uno dei fondatori Di Podemos Ed è stato promotore Che cazzo me ne frega È stato promotore Di una legge Che si chiamava Solo sì È sì Contro Ovviamente Certo Le molestie Ai danni Delle donne Ricorda un po' La vicenda Io che ascolto Gli 883 La conosco Dell'ex governatore Dello stato De New York Prima di Cuomo Che si dovette Dimettere Dopo aver firmato Una norma Sulle Sulla prostituzione Scoperto A pagare donne Per prestazioni Sessuali Neoliberale anche lui Sì Neoliberale anche lui È sempre La stessa È sempre La stessa storia Io Una cosa L'ho già detto Quando è uscita L'ultima vicenda Della Della Dell'ex ministro San Giuliano Una cosa sola Devono fare Quando Quando Assumono incarichi Di potere Una cosa sola E non Non ce la fanno Ma se tu fai Sempre sfigati E li porti Ai vertici Della politica Poi capito È gente Poco abituata Insomma Le cose belle Non è che ti puoi aspettare Non è che ti puoi aspettare Il protocollo Uno si sbarata Quando Quando Vabbè L'ex governatore Io non ero sfigato A dire il vero No Ho sbagliato Solitamente in Italia Questo succede Insomma Solitamente Questo Sì anche Sentite Avete Avete visto Però Vai 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 No prego Prego Basta non parli più Di 883 No 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 D'altro D'altro canto Devo dire Mi ha molto colpito E secondo me Ho letto un commento Non Mi spiace Non ricordo di chi Chiedo scusa Alla persona Che l'ha espresso Perché non mi ricordo Chi sia Ho visto Le foto Dell'ex ministro Ferito In maniera Decisamente Importante E seria E su questo Non c'è proprio Nulla da ridere Mi ha molto colpito Il fatto Che Quella che Sembra essere La responsabile Sembra Sottolineando Sembra essere La responsabile Di quella ferita Trovo intervistata In televisione Con Gli viene data Una piattaforma Importante Gli viene Elevata A rango Di Interlocutore Immaginate Il contrario Immaginate Cosa sarebbe Successo Immaginate Il Il In televisione Un uomo Che viene Accusato Di aver Procurato Una ferita Così importante A una donna E che viene Intervistato E a cui viene Dato Una piattaforma Verrebbe Considerato Un mostro Invece lei È una Sicura A me Devo dire Io non sono Non sono Non mi piacciono Gli estremismi Né woke Né dall'altra parte Però devo dire Che questa cosa È abbastanza Stupefacente Ma neanche Questa sorprendente Lei sicuramente Mediaticamente Data la condizione Dei media Televisivi Soprattutto Estremamente interessante Un ottimo prodotto Candidata sicura All'isola dei famosi O a Tentation Island O quale altra Trasmissione Cioè tu queste cose Le sai canestrare CFA CFA Perché no E quindi diventa Personaggio televisivo Io sono abbastanza Certo che lei Puntasse a questo Quando ha tirato fuori Il casino Il no Con i post Instagram Ma certo Ma certo Chiaramente puntava a questo Saltata la nomina Dice vabbè C'è un altro mondo Che accoglie Quelle che non riescono Quelli che non riescono Io divento Personaggio televisivo Adesso non so neanche Se c'è ancora Barbara L'Urso Agli età dei pomeriggi Degli italiani Però insomma Quella roba lì Per cui ci sta Funziona in questo modo Altro che business Dell'attenzione Ma questo avviene Questo avviene Costantino Perché Perché Soprattutto il giornalismo Italiano Non segue Quella Regola Che invece In Solitamente In letteratura È la regola maestra Cioè La cosa interessante Non è Raccontare Il male Fatto Da chi è cattivo La cosa Molto interessante Invece È Raccontare Il male Fatto dai buoni Dai cosiddetti buoni Dagli autonominatesi buoni Il giornalismo italiano Questa cosa Proprio Non Non sa dove sta di casa Per esempio C'è Un ufficiale Dei carabinieri Qui non si fanno nomi Sul serio Che è uno legato A A giudici A giudici Palermitani Famosi Sotto scorta E tutto il resto Che pubblicano Le loro interviste Le loro analisi Sui soliti Giornali E Questo ufficiale Di polizia giudiziaria Che Non è stupido È uno capace Però Insomma Era uno Che mandava Foto Di Foto Di se stesso Nudo A una Testimone E Cercava di Manipolare Questa Testimone Sarà neoliberista Scusami Nicola Sarà neoliberista No No L'ufficiale si autodefiniva Ovviamente Di sinistra Ovviamente Con condotte private Da neoliberale Con condotte private Esatto E non solo condotte private Perché quando cerchi di manipolare Un testimone Di portarle in aula Per far condannare Uno che Sicuramente Non è un buono Però Diciamo che Non si fa Per esempio In questa Questa roba Che dovrebbe diventare Un'indagine Dovrebbe Si racconta Che c'è Una giornalista Che ammette Di avere paura Di questo Ufficiale Perché sa Sa cose su di me Dice Ora Questa è una bella storiella Ed è uscita Su Solo ed esclusivamente Su un giornale Che insomma Non è proprio Annoverato Fra Quelli Buoni Cioè La verità Ora Non significa Che tutto quello Che esce sulla verità Né verità Né menzogna Alcune volte Anche La verità Scrive delle cose Interessanti E soprattutto vere Perché insomma Avevano le carte in mano Quindi Il giornalismo italiano Caro Marco Che vivi lontano Proprio questa regola Aurea Della letteratura E in linea Anche del giornalismo Insomma Che ciò che fa notizie È questo No E invece Invece Proprio questa roba Il male fatto Dai buoni Non No Proprio Proprio no Perché Succede Succede così Io mi sono vestito Da hacker L'ho già fatta Questa Questa Sciocchezza Con voi Mi sono vestito Da hacker No fallo Mettiti Mettiti Il cappuccio Da hacker Il TG1 Tutti i giorni Mi copia Questa buffonata Fa vedere Ah scandalo Hacker E c'è uno Col cappuccio Tipo Blackblock Col computer Perché devono far capire Il loro pubblico Di riferimento Sul quale ovviamente Mi taccio Per rispetto Al pubblico Di riferimento Per rispetto Al TG1 Perché devono far capire Che tutto questo casino È successo A Milano E succede tutti i giorni In tutte le città Del mondo Sono quattro Giovinastri Con le felpe Che poi vanno fuori Spaccano le vetrine E stanno tutto il giorno A casa Invece di lavorare In ambienti salubri E luminosi Stanno nel buio A tramare Cioè È bellissimo Cioè Proprio Il monumento Alla minchiata E Alla bugia Faccio Nicola Due considerazioni Su questa cosa Sull'ultima Che hai detto Che è importante Nonostante tu abbia Gusti musicali Discutibili Io questo L'ammazzo L'idea Dell'hacker Che è una parola Con un senso Nel 99% Delle volte In cui viene pronunciata L'idea Dell'esperto Informatico Che entra Nei computer Appunto Nel buio Della sua cameretta Con La felpa E il cappuccio Devo dire È un'idea Abbastanza diffusa Anche Il mondo Almosassone Purtroppo Ed è Non è così Non è così Quelli che Non è il caso Di questa inchiesta Però Uno dei grossi problemi Degli ultimi anni Emerso È L'industria Degli scam Cioè Quelle persone Che Fin genere Finendosi Assistenza tecnica Finendosi Operatori telefonici Chiamano persone Fragili Anziani O persone Con una scarsa Educazione informatica Tipo Biondo Cercando Di estorcere Di estorcere Soldi Abbonamenti Finti Cose di questo tipo Non sono Come diceva Nicola Persone Giovinastri Con Con la felpa E il cappuccio Sono Professionisti Che lavorano In uffici Che Sono Parte di Organizzazioni Aziende Che Hanno quello Come Come business Ripeto Non è questo Il caso Di questa inchiesta Questa inchiesta È una cosa Diversa Però Però Al di là Delle Risultanze Al di là Delle Notizie Che stanno circolando A me Colpisce molto Perché E ne parlavo con Nicola Al telefono Qualche giorno fa Una Direi Quindicine di anni fa Ci fu un caso Molto simile Diverso In In molti aspetti Però Il 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 dato Era Che Erano stati Accumulati Dati Metadati Sensibili Che permettevano Di ricostruire Informazioni Importanti Circa Persone Oggetto D'indagine E non oggetto D'indagine Tramite Una Importante Raccolta E conservazione Di Dati E metadati Cioè i metadati Sono quelli Io e Nicola O io e Costantino Ci scambiamo un messaggio Il dato È il messaggio Il metadato È L'ora In cui questo messaggio Viene inviato A chi Il L'operatore Telefonico La cella Qui è riconnesso E queste cose Qua I metadati Permettono di Ricostruire Informazioni Importanti E Già una quindicina Anni fa C'era stato Un Mezzo Scandalo Senza Credo Implicazioni Di tipo Penale Però insomma Era un Campanello D'allarme Perché c'era stato Un Consulente Che Grazie Alle sue Attività Legali E richieste Di consulenza Aveva Di fatto In mano Un'importante Molle Di dati Su tante persone Importanti E meno Importanti Andiamo avanti I quindici anni La cosa si è ingegnerizzata Nel senso che Qua siamo di fronte a In parte Dipendenti Infedeli Dello Stato E di aziende Private Ma soprattutto Siamo di fronte a Una totale Incapacità Dello Stato Di Non dico Sanzionare E scegliere I propri fornitori Ma proprio Di comprendere Quello che dovrebbero Monitorare Perché Il fatto che Queste persone Avessero accesso Ai backup Che non erano Crittati Che avessero La possibilità Di accedere Informazioni A database Significa che Non soltanto Chi doveva fare Il lavoro Di controllo Monitoraggio Non l'ha fatto Significa che Proprio non sapeva Che doveva farlo Secondo me Da quel che Leggo E riesco a ricostruire Che è ancora Più Più preoccupante Perché significa Che Lo Stato Non è in grado Di proteggere Tutelare I dati Che gli sono Affidati Perché ricordiamo Che secondo La GDPR Il dato È di proprietà Dell'interessato Cioè il mio dato Non è Di proprietà Dello Stato Lo Stato Lo gestisce Per conto mio Come lo gestisce L'operatore telefonico Come lo gestisce L'azienda Del gas Eccetera Lo Stato Non è in grado Non ha le competenze Per neanche capire Quello che dovrebbe fare Con questi dati E come proteggerli E come tutelarli E le procedure E i controlli Che dovrebbe fare Ed è molto più preoccupante Perché significa Che vai a sapere Anche in questa occasione Chi era Chi era Il committente Di queste Richieste Di accesso E Se Sia stato Un Un attore Nazionale Internazionale È un po' come È in forma più grave Il rischio Concretizzato Che c'era Quando il primo partito Al governo Era amministrato Attraverso Una piattaforma Collabrodo Controllata Da un piccolo Studio Di Milano Da persone Che non erano In grado Di garantirne La sicurezza E La corretta Gestione Dei dati In quel caso Il rischio Era La compromissione Dei processi Democratici O di alcuni Processi Democratici Anche importanti Perché su quella Piattaforma Venivano Fatti e Disfatti Governi Leggi Fiduce Cose del genere Qua siamo di fronte E' una cosa Probabilmente Ancora più Profonda Perché Sono compromessi Dati personali Di tante persone Di tanti funzionari E di tanti VIP Non perché Siano importanti Perché sono Personaggi Dello spettacolo Ma proprio E' una notizia di sicurezza Cioè Uno può pensare Quello che vuole Su Meloni E anche Perfino Su Salvini Ma il fatto Che qualcuno Avesse accesso Ai loro dati Personali Privati Di spostamenti Di Comunicazione Leggevo Di dati sanitari In alcuni casi È È Veramente Uno scandalo È veramente Uno scandalo Davvero preoccupante Sì Va bene Marco Però Concentriamoci Sulle Sulle cose Sulle cose Importanti Essenziali Allora Come sai In Italia Si fa uso E abuso Della carcerazione Preventiva Ti faccio io Le domande E tu Prova a rispondere A toglierti Dalle cuffiette 6883 E a rispondere E Allora C'è Che tu sappia C'è uno Di questi 13 Mi sembra Indagati 12 Indagati Che Ha subito La carcerazione Preventiva Come richiesto Dalla Procura Non mi pare No Appunto Non mi pare Se tu presenti Con una mega Conferenza stampa Tu procura Di Milano Questo caso Come Una Una sorta Di Organizzazione Versiva Di spionaggio Io ho sentito Anche questa parola Più volte Detta Di spionaggio E poi Il GIP Chiedi 13 Ordinanzi Di custodia Cautelare In carcere E il GIP Che Insomma Qualcosa Ne ha capita Di questa cosa Di tutta questa vicenda Te le nega Tutte 13 Custodia Cautelare In carcere A partire Da Il numero Uno Di questa azienda Milanese Che Uno pensa Beh lui L'avranno chiesta L'avranno ottenuta Già Iniziamo a ridimensionare Ma non a ridimensionare Io non sto dicendo Che l'inchiesta Di Milano È fatta con i piedi Non ne avrei Peraltro Le possibilità Non ci sono Le carte Per dare Questo giudizio Però questa cosa È curiosa Marco Dopodiché appunto Loro parlano Di spionaggio No In caso si parla Di dossieraggio Lo spionaggio È un'altra cosa Il dossieraggio Prevede Quello che tu hai detto Cioè Non Geni Geni Informatici Ma Semplicemente Funzionari Infedeli Che Per Per soldi O per D'abbenaggine Si fanno Catturare Si fanno Catturare I dati E questa è una cosa Marco La seconda Questa è una cosa Tecnica La seconda È che Tutto questo Avviene Da parte Di una Di un'azienda Che Evidentemente Era Ben Aveva una Buona pubblicità Perché ci sono Anche Multinazionali O Grosse Aziende Che si Rivolgono A loro E tu Tu mi devi Perdonare Ma se sei Un'azienda Che fa Queste cose Secondo te Che cosa Che cosa Quali sono i tuoi strumenti Le fonti Aperte Giusto? Le fonti Aperte Nel momento In cui Faccio un esempio Coca-Cola Ti chiede di sapere Qualcosa Non pubblica Del suo Concorrente Che si chiama Canestrari L'azienda L'azienda Accede A Conoscenze E A Informazioni Quindi Qualsiasi Tipo Di Ricerca Può Essere Classificata Come Dossieraggio Capisci Quanto È Labile No? Mi è chiaro Il Il Confine Alla Fine Poi Rimane Invece La Suggestione Cioè La Suggestione Che Quest'azienda Gestita Da un Uomo Con Solide Relazioni Amicizie A Destra E Nella Destra Milanese Che Esprime Per esempio Il Presidente Del Senato Fra I Tanti E Con Relazioni Anche Buone Con Con Il Sindaco Di Milano E Con Altri Esponenti Invece Del Centrosinistra Fa Venire In Mente Qualcos'altro Marco E Cioè Che Quest'azienda Godeva Di Buona Pubblicità E Che A Un Certo Punto Per Un Caso Le Indagini Dicono Che Uno Dei Suoi Dipendenti Un Ex Poliziotto Abbia Incontrato Per Sapere Per Avere Notizie Un Signore Che Era Stato Già Indagato Per Fatti Di Indrangheta E Che In Quel Momento Era Sotto Osservazione A parte Delle Forze Dell'Ordine Questo Casus Belli Fa Scoppiare Il Bubone Ma In realtà Il Bubone E Già Scoppiato Quando La Lotta Politica O La Battaglia Commerciale Fra Aziende Inizia A Essere Così Becera E Dai Tratti A volte Che Sfiorano Il Codice Penale Per Cui Tu Hai Bisogno Di Sapere Che Cosa Fa Il Tuo Il Tuo Collega Di Partito Costantino De Blasi E Chiami Equalize Capito Questa Roba Qui Perché Ormai Il Mondo Delle Informazioni È Il Mondo Principale Attraverso Cui Si fa Politica Si fanno Affari E Si regolano Conti Più o Meno Leciti In maniera Più o Meno Lecita Cioè È lo Specchio Dei Tempi Marco Dai Il Corretta Descrizione Delle Conseguenze Io Stavo Cercando Di Riflettere Sulle Cause Tecniche Il Fatto È Che Non Dovrebbe Essere Tecnicamente Possibile Per Qualcuno Che Non Ha L'autorizzazione Accedere A quel Tipo Di Dati Succede Perché Questo Lo Sentivo Nel Podcast Dei Nostri Amici Don Chisciotti Giannino Carnevale Maffè Cifarelli Se Ho Capito Bene Quello Che Dicevano Sembra Che Questa Società Avesse L'appalto Sia Di Mettere In piedi Sistemi Informatici Per alcune Istituzioni Sia Del Controllo Della Corretta Configurazione Di Sicurezza Di Tali Sistemi Informatici È Chiaro Che Non Va Bene Ma Non Ci Vuole Un Esperto Per Comrenderlo Se È Come Chiedere Il famoso Proverbio All'oste Se il vino È buono È Proprio Un problema Al di là Delle Responsabilità Personali Dello Scandalo Dal punto Di Visto Di Immagine Politico È Proprio Un problema Tecnico Di Incompetenza In Comprensione Di Quali Sono I Rischi E Di Quali Sono Le Competenze Necessarie Per Gestire I sistemi Informatici Nel 2024 Non so se Mi sono Spiegato Non c'è Nessuno Che capisce Nulla Di quello Che sta Succedendo Neanche Di quello Che sta Succedendo Ma Assicurati Che La La Reazione Il Riflesso Condizionato Come Sempre E poi Magari Sentiamo Costantino Prima di Andare In Chiusura E Aumentiamo Le pene Che non Vuol dire Assolutamente Nulla Non serve Assolutamente A nulla No 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 Su questo Vi posso Raccontare Un fatto In Italia Ci sono Centinaia Di Processi Per Cancellieri Di tribunali Che hanno Fatto Accesso Al casellario Giudiziario Abusivamente Per vedere Se il tizio Da cui Stanno Comprando La casa Avesse Più O Meno Procedimenti E roba Del genere Ci sono Centinaia Di processi Che riguardano Militari Di qualunque Ordine Grado Che accedevano Per vedere Se il loro Vicino Che ha Il cane Che gli abbaia Di notte Avesse Precedenti O addirittura Se L'ex Moglie Da cui Si stanno Separando Quanto Ha nel Conto In banca Capito Marco Queste cose Sono All'ordine Del giorno Sono gravissime Ma perché Sono gravissime Perché c'è Un comportamento Di un pubblico Ufficiale Che abusa Delle proprie Funzioni E a ora Di pene E roba del genere Li sputteremo Subito Quelli Che Insomma Stanno al governo Di inaspriamo Le pene Ma sono cose Che non solo Al governo Non interessano Affatto Ma peggio Stanno depenalizzando A torto A ragione Ne stanno depenalizzando Perché abbiamo abolito L'abuso D'ufficio Che è questo L'abuso D'ufficio È questo Marco Capito Per cui stiamo andando In direzione Ostinata Ostinata E contraria E Poi L'altro È L'uso Delle banche dati Tipo nel caso Striano Anche quello È Lo scoppio Di quello scandalo È Ad uso Un delfini Cioè Non 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 c'entra niente Con questa storia Io ho visto Molto tempo dopo Delle indagini Che prevedevano Richieste numericamente Assai più consistenti Di quelle che faceva Striano Prima che venisse Che venisse Tolto Tutto qui Il punto È Che oggi Se devi condannare Il funzionario Infedele Per accesso Abusivo Alla Alla Banca dati Y Y È Un reato Che potrebbe Anche non esistere Perché è stato Abolito L'abuso Di ufficio Quindi devi Dimostrare Che c'è stata Una dazione Di denaro E quindi scatta Un altro reato Ora È evidente Che questo comportamento Ripeto A torto O a ragione Questo comportamento Di abolire Il reato Di abuso Di ufficio Sarà sanzionato Dall'Europa Perché non è possibile Che non abbiamo Più una norma Che pubisce Gli abusi Dei pubblici ufficiali Tutto qui Chiudo Anche perché è tardi Dicendovi Vedrete che anche Questa storia Sarà Ben Ben sigillata Ben sigillata Perché Sono troppe Le Le Coincidenze Che fanno pensare Che ogni volta Che un familiare Di un politico Il caso è di La Russa Ovviamente In questo caso È di La Russa Ogni volta Che un familiare Di un noto politico Combinava qualche casino Scattava immediatamente Quando ancora Il fatto Non era A conoscenza Del pubblico Del grande pubblico Scattava immediatamente La richiesta Di aprire Un file Su quel politico Questo Che cosa Potrebbe significare Ammesso Che non sia Una coincidenza Che c'è Qualcuno Ai vertici Delle forze Dell'ordino Degli apparati Di sicurezza Che chiedeva Senza sporcarsi Le mani A questa azienda Come probabilmente Anche ad altre Dice Fatemi un dossierino E questo Potrebbe essere Anche una cosa Insomma Un po' Pericolosa Ed è proprio Per questo E per altri motivi Non sto qui A raccontarti Caro Marco Che probabilmente Anche questa storia Verrà chiusa Io ho la sensazione Che la Che l'inchiesta E la procura Di Milano Serva Serva anche A tagliare Rami secchi Che abbia Una conseguenza Politica E probabilmente Anche una motivazione Politica A monte Ma questo Senza Insomma Togliere niente A nessuno Cioè Gli investigatori Lo vedremo Fra un po' Di tempo Io nel frattempo Con enormi Difficoltà Come vedete Quando sembrava Che andava tutto bene La gatta di mia figlia Ha pensato bene Di staccare La camera La videocamera Con cui stavo Trasmettendo Vabbè Vi ho ascoltato A pezzi Naturalmente Devo dire Che ho un'unica Considerazione Da fare Perché poi Si è fatta Anche una certa Niente Il problema Il problema È che Noi in Italia Non abbiamo Senso delle istituzioni Con questo Voglio dire Che A proposito Le istituzioni Sono un presidio Sono una cosa Importantissima Non vanno svilite In realtà Vengono svilite Sia a lato Diciamo così Alto I politici Che comandano Se ne fregano Delle istituzioni Ritengono le istituzioni Diventi In una cosa propria Da qui Gli appalti Gli affidamenti Diretti Da qui La società Di cui parlavate Che fa Come dire Appunto Serve il vino E poi guai Se il vino Non può certo dire Che il vino Dell'oste Non è buono E dall'altra parte Anche tutto Un altro sistema Di funzionari A vario livello Che pensano Di poter Non rispettare Le istituzioni Perché ritengono Che quelle istituzioni Non sono istituzioni Ma sono Come dire Occupate In qualche modo Abusivamente Dall'avversario E' un fatto Di cultura E' un fatto Di cultura Che è trasversale Che non riguarda Soltanto una parte politica Ma riguarda Tutto l'apparato Dello Stato Guarda Vai a vedere Se ti vuoi Visto che tu sei Uno che ha gestito Personale In grandi aziende Caro Costa Vatti a vedere Le assunzioni All'agenzia Per la Cyber security Certo Vatti a vedere Sì Senza Senza Dire cose Irriferibili Ma a me viene in mente Che certi uffici Li pagano così tanto Che poi questi poveretti Che vengono pagati Così tanto Non hanno il tempo Di lavorare Cioè Il lavoro loro E spendere i soldi Che gli danno Perché so tanti Cioè so problemi E uno dice Ma che fa Ma li metto In banca E non li uso Li metto sotto al materasso Li regalo a canestrari Che poi ricomincia a scrivere E no Per cui hanno Il primo Il secondo lavoro Non è più spendere i soldi Che è guadagnato dal primo Ma Diventa il primo Il primo lavoro È spendere i soldi Che mi danno Il secondo lavoro Comunque Vabbè Dopo Sta Battutaccia Che anche Un Un ascoltatore Medio Degli 883 Capisce Canestrari Riteniti baciato Non ti arrabbiamo Concludo io Dai concludo io Concludi tu Concludi tu Bravo Volevo ringraziarvi Per il tempo Che Passiamo sempre insieme E soprattutto Nicola A cui volevo Dedicare Un verso Del Perché è chiaro Che Queste sue La sua La sua Conoscenza Della macchina Dello stato E Dell'animo umano È preziosa E infatti Volevo dirti Nicola Com'è bello Il mondo Insieme a te Mi sembra Impossibile Che tutto ciò Che vedo C'è Da sempre Solo Che io Non sapevo Come fare Per guardare Ciò Che tu Mi fai Vedere Direi Che possiamo Davvero Chiudere Ma non Solo Questa Puntata No Guarda Io non ho parole E quelle Che mi rimangono Sono Irriferibili Anche io Ti voglio bene Canestrari Grazie Una canzone Degli 883 Non me l'aveva mai Dedicata Nessuno E invece Proprio come inizia La serie L'ho fatto io Vedi Vi voglio bene È proprio Una bella serie Nonostante tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao